Cosa sta succedendo? Non guardare! Cosa sta succedendo? Voglio sapere! Cosa? Perché vuoi saperlo? Cicco! Cicco! No, no! Lei posso spiegare tutto! Cosa stavi facendo con la mia mogliera, per favore? Mi ha costretto lei! Non è vero! Anna, cosa stavi facendo tu? Vai a vedere! È divertente questo! Ma poi era lei che faceva così! Esatto! Diciamolo un po'! Ecco! Ecco! È raccapricciante, Anna! Smettila subito! Scusa! Scusa! Mio Dio! Vi faccio vedere io un ballo! Se vuoi puoi farlo tu e ragnolo! Scusa questo pangolo! Aspetta! 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 Firmo! Vai martellami le chiappe, Anna! Ecco! Aspetta! Aspetta! Così! Vai! Vai! No! Cicco! Spau! Statici! Andate a cagare! La gombo! Dai! Ma chi va invitare? Allora, Nhiè, oggi si disegna! Mi sono anche dimenticato che cosa! Perché qua si fa... Gli animatroni! Gli animatroni! Fnaf! Fnaf! Quelli sono belli! Ok, vediamo se riusciremo a essere abbastanza bravi da farli apparire nel gioco, va bene? Saremo bravissimi! Allora, tu spostati dal mio pilastro per disegnare subito! Questo è mio! Non so pensare! Disegnere qualcosa addosso! Disegnere qualcosa per forza! Disegnere un pisello addosso! Anzi... No, e dai, perché a lui devi sempre dare una base per facilitarlo? Non è giusto! Fai quell'animatronix, eh! La voglio anch'io la base per facilitarlo! È quello nuovo! Ok! Pronti? Si inizia con... Da cosa? Da cosa? Il primo che abbiamo segnato è Freddy! 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 Ok, Freddy! Freddy! Freddi! È un classico! Magari so farlo! Allora, magari sai farlo! Bravo! Sì, sì! Mi raccomando, per bene! No, no! Cioè, per bene! Mi raccomando, ricordatevi di riempire il foglio di bianco! Così viene meglio! È vero che viene meglio! Io non l'ho fatto, ma lo farò dopo! Ma il niente è stato riempito da qualcun altro! Stai zitto! Che sei un cretino! Oddio! Edito, dignelo forte, sì! Ma come... Ma mi sta venendo già benissimo! Ma come è possibile? Aiutami, aiutami, amico mio, ti prego! Avete visto che bello? Ma guarda com'è bello! Mio Dio! Ma devo avere qualche interior artist pazzo? Ma il mio fa veramente schifo! Ma di uno schifo! Veramente unico! Proprio come te, Gico Tobi! Sì! Tu fai schifo! Ma dissi così tanto, non ci posso credere! Guarda lì che schifo è! Guarda a me com'è bello invece! Mamma mia, sembra proprio lui! Un po' cagare il coloroso, però, è il mio, eh! Eh, ma è con i freddi di quel colore lì! Aveva una base, un po' particolare! Il mio aveva due occhi di bel ghiaccio! Due occhi di ghiaccio belli! Oh, belli gli occhi di ghiaccio! Sì! Non mi ricordo bene com'è fatto Freddy, però, eh! Ne hai fatti neanche io! Sono in vaccinazione del disco! Guarda lì che sono azzurri, però! Il cappello! Il cappello! Aveva il cappello, aveva il cappello, sì, mi ricordo! No, no, ma cosa sto facendo? Beh, io lo sto facendo quasi uguale a come era nella vita sua, reale, eh! Comunque! È proprio uguale, guarda qui che roba! Molto simile! Riccetto! Molto bello il mio, eh! Oh! Mamma mia, che schifo, non me lo dà sicuro! Se regato, stai tenendo un po' il tempo! Siamo a un minuto e venti secondi! Un minuto e venti secondi è tanto! Quindi, dobbiamo metterci circa due! No, ragà, avete perso, perché è proprio bellissimo il mio! Sì, sì, allora, il mio è bello di più del tuo! Eh, il mio è bello di brutto! Cico, la vai a perdere qui, eh! No, no, la io sto per piaccere di brutto! Eh, la vai a perdere, te lo dico io, eh! Qua non c'è speranza, tu è il tuo disegno brutto! Io mi vergogno! No, ti prego, non guardare il video dopo, eh! Ci sarà spazio solo per il mio disegno bello oggi! Guarda, qui veramente ti farà esplodere per quanto è bello! Ma che dieci secondi! Dieci secondi? Eh, dai, allora, io ho finito, eh! Pronti, buono! Dai, ho finito pure, ho finito! And a three, two, one! Dan, Dan! Fatto! No, lo sapevo! Oh! Oh! Ma che cos... Vabbè! È un cricetino, bellissimo! Oh, dai, amici, dai, perché... Otti, io mio cico! Che cos'è quella roba? Vabbè, allora, iniziamo da questo... Guarda, ballo al palazzo! Allora, il fatto che a voi ve l'abbia dato, già partiamo veramente male, perché non è possibile. Allora, questa roba... È identica! No! Guarda pure gli occhi, i colori! Non lo è, non lo è, non lo è! Però avevo una pazza difficile! Non è vero, è bellissimo, guarda, la facilità! Però ti aiutava un sacco, vedi, ti ha fatto il muso preciso, proprio! Infatti, è vero pure le guanciotte! Ma che schifo che fai, strecato, sei un pervertito! Il mio! Allora io! È bello! Questo è incredibile! Quello è quando diventa pazzo, hai dimenticato il naso! Ecco qui, molto meglio! Gli occhi stordi sono bellissimi, così arrabbiato così! Grazie, grazie, è molto bello! Io per la d'arte! Vi ringrazio, allora voi nei commenti, mi raccomando, ricordatevi di votare chi vincerà questa sfida, ma aspettatevi di vedere i prossimi round prima! Che schifo è questo, Anna? No, no, è la sua testa! Oh, è la testa di Freddy! Ma tu direi di no, eh, direi di no! Ma come no? Non è che no, è bello! C'è bisogno di qualche aiuto, allora, li mettiamo... Il trucco perfetto glielo sta mettendo, eh! Un poco di baffi li ho messo, perché secondo me migliorano un pochino la situazione... Ma non li ha i baffi! Certo che ce li ha! E poi gli mettiamo un fiore, ok? Un fiore! Ma come è un fiore? Oh, bellissimo! Carino! Grazie! Come si chiama? È un pisellulus... Bello! Ah, il pisello no! Spetti, spetti, spetti! Migliora tanto! Migliora? Allora è il tuo, è il più brutto! Come è possibile che deludi così? Sei orribile! Ma perché? Allora, sai cosa faccio per disrispettarti proprio? Tu eco... No, qual è? No, questo no, questo no! Eh, quella va bene, va bene! Ecco, tu eco sul tuo disegno! Ecco qui! Guarda tanto, sono con lui! Anna, perché devi martellarmi le chiappe quando tu ero... Perché è divertente! Vabbè, comunque siamo stati bravi tutti, tutto sommato! Proviamo... Ah, grazie mille! ...successivo disegno! Adesso possiamo fare il cupcake della Madonna, se vuoi, bellissimo! Della donna? Della Madonna, che è una cosa strana! Cico, però, regolati col due linguaggio, eh! No, no, scusami, è per dire che... Vai, è bellissimo quello, mi piace un po' a me! Allora, iniziamo con questo cupcake, io non mi ricordo benissimo com'era fatto, eh, però ci proviamo! Di che colore è? È indifferente! È sul cellino, penso! Molto sul cellino! Sì, sì! È rosa! Difficile questo, ragazzi, eh! Ma è veramente impossibile, se ne hai dire, guarda, veramente! Mamma mia! Questo è veramente difficile! La mia sarà un'opera d'arte! Preparati! Sì! Sì, ok! Va bene! Tranquillo! Non mi muovi tu, eh! No, no, perché non sei stupido quando parli, eh! Non è vero! Intelligente, anzi, tutti lo dicono, è streccato, è l'intelligente del gruppo! Poveroso! Poveroso? Poveroso, dai, ma poveroso no! Sei poveroso, quello sì! Allora, io ve lo sto dicendo, ma rendetevi, perché il mio è perfetto, è proprio uguale! Sono preso in giro! Dai zitto, poveroso! Stupido! Basta, basta, basta parlare! Eh, vai a ciucciare qualche ascella, come fai sempre in live! Non è vero! Questo è una bucchia, eh! Che schifo! No, no! Ma se non sapete di cosa si sta parlando, allora non venite in live e non vadovi! È grave! Venite in live a vedere, ah, il strecato che ciuccia le ascelle, che schifo! Non è vero! Eh, che fa il te con i peli, guarda, una roba veramente terribile, secondo me! Quello lì è nuovo, però grazie per l'idea! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Strecato! Era uno scherzo, vi prego! Dai, ma che sei orribile! Mi vergogno! Che schifo è di brutto! Me la stavo scordando! Ma per caso aveva degli occhi? Certo, la cupcake ce li ha gli occhi! Ma non aiutate! Non aiutate il poveroso! Non aiutate! Poveroso, però non chiedere aiuto agli altri, eh! Stai zitto! Eh, vabbè, allora copiute direttamente! Non ti permettere, poveroso, eh! Mi arrabbio, eh! Non puoi copiare! Che bellissimo il mio disegno, Ryan, veramente, sarei fiero di me! Eh, ma che è tipo 20 secondi, me lo dico! Aspetta, quasi fatto, eh! Quasi fatto! Ok, secondo me il mio è poverosissimo! Non mi ricordo di che colore ha gli occhi! Gialli? Ma bianchi, credo, non lo so! Bianchi! Ma che bel disegno! Ma che bello, non ti prego! Oh, ma è già finito! Aspetta un attimo, 10 minuti ancora! Un attimo, aspetta un attimo! Ma che 10 minuti? E' stato sbagliato! Allora tre! Allora due! Vai, dai! Voglio! Ve la! Via! Ma poveroso! Si va, si vola, uomo! Bellina, piccolina! Mi sono sbagliata! No, non l'hai presa! Ma l'hai presa anche te! Tu non l'hai presa, vero? Dai, ma non è possibile! Ma quanto, quanto è bellino! Ma fa schifo! Dai, ma sei un rima, sei un bruto! Ma uso, sa cosa! Hai fatto un panettone, cretino! Non lo modifico un po', modifico un po', modifico un po', dai! Te lo modifico io, perché non è possibile! Facci le decorazioni, presenti gli zuccherini sopra! Oh, eccoti uno zuccherino sopra! Stai zitto! Allora, questa è la mia! Bellissima! Che bello! Hai dimenticato i dentini, quelli, capito? E li faccio subito, infatti! Ecco qui! Vedi un po'? Posso fare anche un bel dettaglio su di te? Allora, stai zio, non ti avvicinare perché... Non ti avvicinare perché, ti giuro, va a finire male, eh! Ma voglio farlo! Vantene! Bene, poveroso! Beh, quello di Anna è bella, invece, devo dire, è la migliore... Che cacchio di ballo è mai questa? No, basta, Martello! Dai, che schifo! Ah, che bellissimo! Cosa stai facendo? Che cosa è? Oh, bella di Patronix! Pappa è questo qui, no? Pappa è Ciscia, chi è? Eh? Ed Cupcakes! Dai, allora, ascolta però, eh! Ti fa sembra un bimbo nudo che ha chiappato la prima cosa! E mi spieghi come ti è venuto in mente di pensare che il gioco ti potesse dare la cupcake quando hai fatto questa cosa! Stai finito, ma cos'è questo? Cosa cassa! Cioè, tu... Allora, questa cosa qui è sbagliata, no, dammela, 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 dammela! Pestalo, pestalo! Perché? L'ho fatto bene! No, fa schifo! Oh, la metto qua, è mia di nuovo, due io, no? No, è di nuovo, no! Ma ti ne hai, scusa! Prossima, che cos'è la prossima cico? Allora, possiamo fare Bonnie Widerata, tutta la cattiva malvagia! Bonnie Widerata, va bene, facciamo Bonnie Widerata! Oddio, mia quella è difficile! Però che vuol dire? Sì, tre, due, uno, via! Ok! Ho un info da chiedere, cos'ha la versione Widerata? Perché non c'è la faccia! Eh, la bocca non ha la faccia, è terribile! Perché ho capito! Ho capito di tutto, mamma mia! Ricordatevi che Bonnie è un coniglio... No, che schifo! Pazzissimo! No, che hai detto? Sta venendo malissimo! Tipo così? Eh, sì, sì! Mamma mia, è proprio brutta! Non lo so fare neanch'io questo, è difficile! Io mi ricordo che aveva tipo un buco al posto della faccia, con i denti mi pare! E aveva i fili che gli uscivano da dentro, ti ricordi? E che schifo! Sì, 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 i fili che uscivano da dentro, mi ricordo! Ed era brutta, eh! Ma brutta un botto! Ispirati a strecato, Cico, se non sai! No, no, no! Mi sta venendo bene, infatti! Non mi guardate! Madonna, ma la mia è bellissima! Non pensavo di poterla fare così! Oddio! Perfetto! No, no! Come stai facendo? No, no! Ma stai facendo troppo bene, smettila di farla così bene! Mamma mia! Ok, no, no, no! No, è epica, è epica, è epica! Quando uno sa fare, deve solo insegnare a chi non sa fare! Per esempio, quell'idiota di strecato non sa fare nulla, viene e ti insegno! Non è meno alcune cose le sa fare! Tipo? Sparire? Non mi ricordo! Ah, no, perché sparire non lo sai fare! E poi quella cosa di sparire, infatti! Sei sempre in giro, eh! Però se te ne vai, magari a noi non è che ci dispiace! No, non me ne andrò mai! Sono sempre contento! Eh, si sente questa tua presenza, infatti! Si percepisce! Non ti piace questa presenza? No, 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 no! Ah, che bellissimo! Mamma mia, che tocco di classe che ho tirato fuori dal cilindro! Mamma mia, bellissimo! Ok, oh! Ci siamo? Come sta andando? Guarda voi! Ci siamo, ci siamo di brutto! Ancora qualche istante, eh! Eh, infatti! Ancora qualche istante per giusto regolarsi bene! Oh, un dettaglio da mettere! Dabbelo tu che non ce l'ho più! Non saprei, una lingua? Magari, non so se ce l'ha, eh! Una chitarra! Una chitarra e non ci sta a me, perché io faccio la faccia! A me non ci sta per niente! Devo stare a complicarmi la vita! Io lo faccio! Ecco qui! Beh, io direi che ci siamo, eh! Siete pronti? Ok, ci siamo! Sono pronta! Pronto? 3, 2, 1, done! Pazzo! Ma! Oh, Dio! Ah, such good! Ah! Non hai preso niente! Non la tengo! Ah, vedo che un altro non ha preso niente! Eccola qua! Ah, sì! Wow! Lo sapevo che guardavi il... Ha fatto il prank! Ti piaceva questo? No, dai! Dai, è mio! Dai, no, dai! Dalla a me! Dalla a me! Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? No, dai! Dai, dai! Ridai! Ridai subito! No, dai! Non è ridata! Non è ridata! Ti prego, lasciami stare! Non toccare mai più! Ok? Hai paura con quella voce! Vedo che qui abbiamo dei bei disegni! Questo qua era bruttissimo! Effettivamente si capisce! Vabbè, però l'ho ricevuta in ritardo la testa! Non l'hai ricevuta! Ti ho rubato quella di cibo! Ma come te l'hai sbagliato poi? Guarda lì! Però era bruttissimo, stregato! Cioè, non capisci mai nulla! Ma io, invece, dinnanzi alla mia! Opla! Tu ergo! Bravissimo! Bravo! 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 È bellissimo! Però tu non hai condiviso il dettaglio dei fili! Come no? Tu me l'hai detto? No! Ma hai detto mettiti no! L'ho detto Anna! Sei stupendo! Eh, ma io non lo ho scordato quello lì! Bene anche questo, Anna! Brava! Sembra un cesso! Eh, brava di sì! Ma hai fatto così! Un cesso dentato! Pazzesco! Bello, bello! È un po' scomodo! Questo qua fa cagare e tu la devi smettere di barare! La devi smettere di barare! Perché tu, secondo me, te le prendi da solo le cose che ti dovrebbe dare il gioco! No! Perché non è possibile! No, hai delle prove, riguardo! Sì! Perché qui... Cos'è questo? Dai! Ma fa... Ma qui! Ma qui! Ma dalla, fa la finita! E qua ti doveva uscire, secondo te! E qua ti doveva uscire uno scafuddone! Ti doveva uscire uno schiaffo! Pomerino! Cretino! Dai, proviamo il prossimo! Che cos'è il prossimo? Allora il prossimo possiamo fare! Eh! Il puppet! Guarda come controlla quello che si può rubare dalla creativa! Eh! Fai controllarmi! Cazzo, diciamo! Secondo me tu stai barando, perché se te ne da ancora si imbaro, eh! Non è vero, non è vero niente! Non hai provo! Cos'è che hai detto? Cosa dobbiamo disegnare? Allora, la bambola! Puppet! Sì, bellissima! Ah, ok! Quella è bella, quella è bella! Ok, ok! Questo è difficile, è strecato non sgravare! La scatola! Certo, un pochino di scatola ci vuole, eh! Se no... Faccio schifo! Dai, perché hai detto la scatola? Perché hai detto della scatola? È difficilissima! No, è... Ah! Ah, che è successo? Ho sbagliato un po'! Io non mi ricordo come si fa questo! Così si fa! Così, tipo... Oh, è un riponto il mio! Ehi! Ma è facilissimo questo! Dai, dai, veramente che facilità unica! Ma che bravura che ho io! Ma guarda qua! Ma mi dai un consiglio? Ti prego! Sì! Allora, è una bambola tipo quelle che escono dalle scatole Capito? Che giri la manovella e esce! Spunta a molla! Esatto! Però è tutta nera, bruttina e... Boh, insomma... È maligna! Maligna, maligna, maligna! No, non mi piace! No, io non ci sto riscendo! Non mi ricordo come si fa, porca miseria! Mamma mia, ma la mia è più bella di tutte le vostre, ragazzi! C'è questa qua non è proprio una sfida degna! Ascolta, tu ricordi... Oh, non barare di nuovo, eh! No, no, no! Questa è la soberità! Non ci... Non è vero! Io so già... Non è tu lo sai che non è vero! Io so già che me la darà! Io so già che non te la darà! Al cento per cento! Ma è bella, però, è bella! Non è bella! Perché a te sembra bella quello che fai, ma fa schifo in realtà! Quindi stai zitto! Guarda che figata! Ma non è vero! Mi sta portando un po' troppo sbaglio! So già che farà cagare la tua, cico! Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma lo sai! Ma lo sai gerato! Magari gli viene bene! Guardi, quella che bellezza sta uscendo! Ascolta, ma... Veramente? Veramente? Adesso la io ti crederai! Guarda, adesso io ti capisco! No, strecato, a te dobbiamo cacciare! No, non dirlo! Di averlo già detto molte volte! Che poi invece sei ancora qua! Non si sa come mai! Però sei ancora qui! Mamma mia, che bella! È migliorato! È migliorato all'improvviso! Zitti, zitti! Il mio non è tanto migliorato! Ma che dici secondi! Sono sicuro che quello di Cico è peggio del mio! Quindi vado sulla fiducia! Sono tranquillo! Ok, tre! Due! Uno! Via! Ora è pazzo! Beh, che dire! U, prega, ha dato di lui! Oh la madonna, ma quanto è grosso questo! Non piazziamolo perché altrimenti non si vede una mazza! Vediamo prima il disegno! Oddio, quello di strecato è fatto bene! Oh, io guarda, è uguale! È pazzo! Guarda, che pazzia! Ma allora, qua secondo me tu avevi un'immagine per copiare perché non è possibile! L'ho cercato! L'ho cercato! È troppo facile così però, eh! Lai, tieni la tua! Tieni la tua! Ecco qua, se no non si vede bene il disegno! Grazie, grazie! Allora, la mia non è venuta benissimo comunque perché... Perché l'ha data a te? Eh! Perché la tua fa più schifo di... È un bellissimo casino! No, guarda che bella la mia! Guarda! No, fa più schifo della mia, dai! Cioè, diciamoci la verità! Analizzala per bene! Non hai neanche colorato il quarzo! Sei proprio stupido! No, analizzala bene! Lai, io ne ho bellissima! No, stai, non voglio guardare! Allora, guardate la mia prima perché è molto più bella di quella di Cico! È un bel palo! Eh, vabbè! Bellissimo! È venuto! Ma non sembra! Ah, vabbè! Stai zitto! Quella di Anna è bella invece! Brava, Anna! Grazie! Non smettila di far sta cagata! Ah, già! Non smettila! Quella di Cico è brutta! Infatti non mi stupisce che non abbia ricevuto nulla! No, ma guarda lì! Si sta anche, guarda, si sta facendo il bagno della scatola! Oh, però effettivamente è simile! Cioè, ricorda un po'! No, no, no! No, la scatola è troppo grossa! Però potete piazzare le vostre cose chi l'ha ricevuta naturalmente, eh! Chi non l'ha ricevuta si attacca! Che bello! Che bello, eh! Sì, sì! Ok! Poi, che cosa dobbiamo fare? My friend! Allora possiamo fare Foxy, definitiva! Super bellissima! Foxy, pronti? Foxy! Partito, timer! Questo è difficile, eh! Non me la ricordo bene! Allora, Foxy, Foxy! Possiamo dire che è impossibile! Possiamo dirlo, effettivamente sì! È un po' impossibile, effettivamente! Io ricordo solo che ho una venda! Allora, vedi di non cercare su internet tu, eh! No, non sto cercando, tranquillo! Come tuo solito, eh! Non ne ho bisogno! Mamma mia! Che donna è impossibile! Lola Lion, mi ritiro da questa gara! No, 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 no! Resisti, resisti! Ah, posso farlo? Ci riesco, dici? Secondo me sì! Perché... Ma che roba brutta! Mamma mia, no! È difficilissimo! Non mi ricordo più mai! Ah, mannaggia! Che difficoltà unica, suprema, definitiva, leggendaria! Boh! Che dire! Sarà... Oddio, mi vergogno! Si capirà? Boh! Chi può dirlo? Chi può dirlo? Io non credo! Ma è arte incompresa! Come te! Tu sei incompresa! Ecco, diglielo un po'! Fai schifo a tutti! Però non sei arte, possiamo dire anche questo! Sei orrore! L'orrore incompreso! Un brutto uomo ceffo! Pasta! Schifoso, ciucciatore di piedi e altre porcherie! Ma quante... Quante cose hai? Eh, lo so, lo so! È quello che mi domando anch'io! Quante cose hai? Ricordatevi l'uncino, è importante! Sì, a voglia, ragazzi! L'uncino è vero che te lo faccio! Ma il mio neanche ha il corpo! Ma che cosa state disegnando voi? Non lo so io! Io sono pazzo, io sono pazzo! Io mi accontento! Prendo degli obiettivi alla mia portata! Perché altrimenti... No, devi puntare in alto, capito? Devi puntare sempre più in alto! Il mio non fa tanta paura, però! Perché... Come si fa a fare il colore de' Foxy qua? Così! Mi fa paura perché fa schifo! Più o meno! Mm, mm, mm! Potrebbe avvenire meglio, secondo me, il mio, eh! Questo lo dirò! No, il mio non è neanche Foxy, cos'è? Però spero di prendere la cosa! Ma sai che a questo punto il mio mi piace di brutto! Bravo, bravo! Il mio non è Foxy, cos'è? Però approfitterò del consiglio di Anna e gli farò l'uncino! Perché così... No, bravo! Non ho capito l'idea, no! Maledetto, no! L'unica cosa che avevo messo io, più di te! Ahà, Zebedeo! Ti è andata male, ti è andata... 10 secondi! 10 secondi, attenzione! No, 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 come? Oddio! No, no, un altro po', un altro po', un altro po'. Perfezionate nei dettagli tre! No, no! Malissimo! Tre! Bellissimo, bellissimo, bellissimo! Uno, go! Fatto! Fatto! Sì, sì! Sì, uomo, sì! Oh, l'ho fatto anche con la benda della cosa giusto, sì! Mamma mia, che figo, il mio è bellissimo! Ecco qua! Tutti molto bravi! I vostri sono anche belli, il mio è proprio... Peggio del bambino! Oddio, che gli è successo, no? Com'è possibile? Vabbè, è il tuo preferito, com'è possibile? Però l'ho preso, l'ho preso, quindi va bene! Allora, vediamo un po'. Vattene, ti giuro, è il migliore che abbia mai fatto! Sì, fa schifo, però... Ma se il gatto ha fatto una cosa scena, basta a sinistra! Eh, il pisellino, vergognati! No, che... Sì, con l'uncino, poi! Il pisellino uncinato, come ti permetti? No, no, che sì! No, niente dedica, niente dedica! Ecco qui! Ti prego! Ecco qui! Hai fatto tutto! Poi c'è il mio, che... Non so cosa gli sia successo, ma non sta benissimo! Ti ha arrattato un pugno! Si è erratto talpizzato, però dai! È cico questo qua, è la versione Foxy! Non è vero, non è vero! Foxy, mettiti accanto! No! Sì, è uguale! Vedi? Stessa espressione! Ecco perché è ugualissimo! Mettila! È bello, ballo! Quello di Anna è bello! Bello! Grazie! Che fa una buona cacca! Il tuo ora, che lo vedo più da vicino, fa veramente cagare comunque! Sì, ragazzi, che uomo, vero! No, è quando ti fa il jump scare! Vedi, è proprio uguale! Eh, che paura! Allora, se tu chiudi gli occhi, fa un uomo! Sta mangiando la pizza, sta mangiando! Cos'è questo? No, è la mano! È la bocca! Te la miglioro io, mi permetti! Ah, grazie mille, fratello! No, no, Lion, ti prego, non lo fare! Lo rendo meglio perché... Non lo fare, ti prego! Ok! Ti prego, non lo fare! Ok, no, aspetta perché ci vuole un attimo di pazienza! Per favore, non lo fare! Lo stai facendo tutto! Non fare quello che penso io, ti prego! Ah, sì? Per favore! Se mi passi ci disegno, mi arrabbio! Lion, per favore! No! Ti piace? Non toccare! Ti è, beccati questo! Ti ho bannato in tempo! L'hai fatto con un pezzo di porco! Maledetto! Adesso è più bello, sì! Bene, va bene! Però l'hai cancellato l'unico bello che ha fatto! A me pare che io stavo parlando, Anna! Scusami! Mi metterò qui a bongare, aspetta! Ecco qua! Bann, spina! Bene, in due pori! Voglio dire, questa sera è live! Aspettate, bann! Questa sera è live! Grifferemo Cico, ma ora, visto che mi hanno fatto arrabbiare, grifferemo anche Anna e Strecato, non mancate! No, per favore! Sul sito Viola! Link in descrizione e nel primo commento! Per oggi, Lion out! No!